Una campagna elettorale importante per la Sicilia, importante per Forza Italia, che mira un risultato importante anche attraverso candidature giovani come quella di Silvia Calvani. Assolutamente, abbiamo apprezzato molto la disponibilità di Silvia a questa candidatura, poi magari quando si entra nel vivo della competizione ci si prende anche gusto, quindi penso che farà anche un bel risultato. Riteniamo che sia doveroso ricambiare la classe dirigente e la sua candidatura potrebbe essere l'inizio di un rinnovamento legittimo che dopo tanti anni e dopo tante legislature possa avere finalmente un volto nuovo. I risultati sono e saranno veramente strepitosi, riteniamo che si possa fare veramente bene con volti nuovi e per una nuova politica che finalmente potrà dare alla regione siciliana un po' di lustro. Tra l'altro una candidatura in un territorio come quello della provincia di Trapani che ha sempre dato grandi soddisfazioni politiche al partito azzurro? I risultati sono sempre stati tanti, veramente, devo dire da un paio di anni, da quando siamo tornati sotto la guida dell'onorevole Miciche che è il nuovo commissario del partito con il quale lavoriamo praticamente a stretto giro di gomito, come dico io, il partito ha avuto certamente un po' di sussulto, abbiamo ricreato entusiasmo e i sondaggi che riscontriamo su Forza Era sono importanti, ma sono importanti soprattutto quelli che riscontriamo nei confronti di Musumeci che è dato notevolmente in vantaggio rispetto agli altri candidati e si appresta, mi auguro, a diventare il nuovo presidente della regione. Campagna elettorale nel vivo, obiettivo il 5 novembre è convincere i siciliani a far diventare Nello Musumeci presidente della regione. Penso che è un traguardo che si può raggiungere, Forza Italia sta andando molto bene in tutte le province e tutto il centro-destra, devo dire che l'operazione di riunificazione del centro-destra è stata importante e io sono abbastanza ottimista sul risultato. Forza Italia ha una lista buona ovunque, anche a Trapani ha una lista molto forte che comprende uomini e donne entrambi forti, come sapete abbiamo dovuto fare una rinuncia ma è una rinuncia a candidarsi, non è una rinuncia a utilizzare il mio amico Peppe Maiana nel futuro e noi siamo assolutamente come decisione di partito, abbiamo già preso quella che lui sarà impegnato nel prossimo governo. Per cui credo che anche questo elemento in più di a Trapani le garanzie per poter lavorare bene tutta la lista di Forza Italia, noi siamo molto molto ottimisti. Dobbiamo fare la prima lista anche a Trapani. Un territorio, quello trapanese, che nella storia ha dato sempre ampie soddisfazioni a Forza Italia l'indicazione di Guaiana e la presenza in lista anche di volti giovani e nuovi come Silvia Calvanico dà nuova linfa anche da questo punto di vista. Ma guarda, Trapani è una di quelle province che ha dato sempre grandi soddisfazioni a Forza Italia non solo per le candidature, per le elezioni, ma per quello che abbiamo fatto su Trapani. Io vorrei che si ricordasse sempre, perché puoi votare un partito piuttosto che un altro bisogna avere anche delle motivazioni. Io ricordo che noi su Trapani abbiamo avuto sempre un interesse straordinario a partire dall'American's Cup, che nessuno pensava fosse possibile realizzare su Trapani. Alla funivia erice Trapani che fu realizzata in tempi brevissimi soltanto dal Cipe, cioè dai quattrini di cui avevamo disponibilità noi quando eravamo al governo ha tantissime altre cose e io quello in cui vorrei garantire i Trapani è che questo tipo di interesse ci sarà ancora di più dopo. Certo, gente come Silvia, gente come tutti gli altri candidati, come Peppe Maiana sono persone che garantiscono i risultati che ci sono stati nel passato e che ci potranno essere nel futuro. È il partito che garantisce questi risultati. Loro sono espressione del partito, espressione migliori di questo partito a Trapani ma in assoluto in ogni provincia. Un partito che comunque conta sulla nuova, tra virgolette, discesa in campo di un rinvigorito Silvio Berlusconi? Un quale le devi, non ha voluto mai. Berlusconi è sempre lui, è sempre lucido, è sempre... Guarda, di una capacità che veramente io ero ad Arcor, quest'estate quando abbiamo fatto questo grande accordo. Avevamo una scena, per cui la sera, anzitutto lui c'era un grande specchio nella sala centrale e tutti e due ci sistemavamo. Io lo guardavo accanto a me e parevo io suo padre. Cioè è un ragazzino, ha talmente voglia di fare, ha talmente intelligenza nelle cose che pensa, che c'è veramente da rimanere stupito. Io credo che è uno degli uomini più grandi che questa terra abbia mai avuto. Giuseppe Guaiana, la voce circolava da qualche giorno. Adesso l'investitura ufficiale da parte del coordinamento regionale di Forza Italia nel prossimo governo musumeci. Lei sarà assessore, allo stesso tempo una ventata di orgoglio ma anche di grande responsabilità. Grande responsabilità senza dubbio. Ringrazio Gianfranco Miciche e Forza Italia per questa investitura. Sarà una grande risposta per il territorio di Trapani, una risposta che Trapani e l'intera provincia merita da tempo. Come diceva prima Gianfranco Miciche, la provincia di Trapani non ha avuto più una figura all'interno del governo regionale a livello di Forza Italia naturalmente da tempo e quindi penso che sia una grandissima opportunità di rinascita del territorio e di sviluppo. Abbiamo un progetto ambizioso, dobbiamo far rinascere l'intera provincia e l'intero territorio siciliano e quindi questo è l'obiettivo unico, portare avanti un progetto di rinascita che tolga di mezzo tutto quello che ha distrutto in assoluto il territorio siciliano. Quindi il centro-sinistra.